Mi sono sentito in dovere di dire, signor Ministro, così si va a una cerimonia al campetto della Lazio, a una cerimonia per la bocciofila, si può andare così, ma impugnare una bandiera di guerra, di due grandi brigate, che sono la brigata Giulia e la brigata Forgo, come se lei andasse a una scampagnata, mi pare del tutto inadeguata. Comunque la lettera pensa che fosse cortese se lei l'ha letta. Però è anche un po' pungente, mi permetta, generalmente. È stato meritato, credo io. Che le pare? Lì va lì dove sono morti 40 persone e si presenta col maglioncino. Ma mi pare assolutamente folle questa cosa. I miei colleghi generali non glielo potranno mai dire, né glielo potrà mai dire il suo seguito, perché sicuriamoci se qualcuno gli dice, signor Ministro, si metta una giacchetta, oppure si metta con la mimetica, è molto più dignitosa, anche se è ridicolo, perché è un Ministro che va con le mimetiche. Va bene, lasciamo stare. Ha ricevuto risposta? Non ancora, ma io mi aspetto una bordata da 90.